Ed ora signori in pista un gruppo di animali in fase d'amaestramento naturalmente iniziamo con Uganda, uno storso africano guidato da Maximian eccolo, simpaticissimo Uganda Bene signori, Uganda preferisce la via del ritorno perché incalza Ali un giovane cammello guidato da Mr. Rudy Grazie a tutti un approccio fruttoso per il suo maestatore E ora signori in pista abbiamo il super molleggiato Eccolo, super Pippo Piccolo Antutul E la nostra simpatica coppia si ritira per dare spazio ad un'altra coppia ben più famosa Signori che stavolta direttamente dalla Juventus abbiamo Totoschi, Lanci e Roberto Maggio Eccoli Cagurati Da nonno Bisogna frenare di più e segnare qualche coppia Un saluto per i tifosi della curva su Ecco, in posizione Primo piano per i nostri simpatissimi E la signori ritornano negli spogliatoi per una ricca doccia Mentre in pista arrivano i lama perubiani Quartetto a passo di danza Un saluto per i nostri simpatissimi bene signori anche il nostro quartetto ci saluta con Rudy Royale e ora in pista 20 quintali di simpatia con un muso da cattivo Muget l'ippopotamo guidato da Maxilian Martini Eccolo Muget Eccolo Muget apertura macellare veramente notevole capace di diventare pericolosa in molte occasioni Muget Eccolo Muget Signori operazione nel conto difficoltosa rimanendo in gruppa Muget diventa sempre di più Difficile Per la natura irregolare e soprattutto per la pelle scivolosa Vedete Muget Degli improvvisi cambiamenti di direzione Velocissimo a capire che si ritorna a casa mentre ritorna per un grosso applauso Maxilian Martini Eccolo Muget Eccolo Muget